L'Eurostudi, scuola di recupero anni scolastici, opera con successo da 40 anni facendo diplomare adulti, lavoratori e studenti in difficoltà, con uno o due appuntamenti la settimana e con l'uso di dispense speciali. Fai ancora in tempo, a fine ottobre e metà novembre partiranno altri corsi in mini gruppi. Prepariamo tutti gli indirizzi, in particolare la nuova maturità di operatore dei servizi sociosanitari. Veniteci a trovare, uscita Teramo Ovest via dei Funari di fronte alla scuola elementare San Giuseppe, oppure chiamateci allo 0861 24 12 37. Da Eurostudi, buon anno scolastico!